Ciao a tutti ragazzi vediamo oggi come resettare il service un Apollo del 2013 tasti da utilizzare 07 e cancella allora quadro spento porte finestre tutto chiuso baule cofano schiacciamo il tasto 7 lo teniamo premuto accendiamo il quadro e subito dopo schiacciamo il pulsante di reset e l'azzeramento è avvenuto ok facile facile ciao